Domani mattina alle 9 prima di tutto il Consiglio Comunale di Asiago darà la cittadinanza onoraria alla sezione Monte Otticara, dopodiché si darà in sfilata fino a Sacrario, faremo la deposizione di Corona in onore ai caduti che sono morti in guerra, questi tanti giovani, sono 56.000 che sono morti per salvare la nostra patria, per la grande guerra che è il nostro centenario, è nel segno della pace, per ricordare che abbiamo bisogno di pace in tutto il mondo. Tutto pronto per la grande festa dei cento anni degli alpini della sezione Monte Otticara, che ad Asiago vivrà il momento clou sabato mattina e che il gruppo Medianord-Est seguirà passo passo in diretta, a partire dalle 8.45, per portare, come sempre nelle vostre case, tutta l'emozione di un evento tanto sentito. La città è pronta a raccogliere le penne nere e le tante persone che non vorranno mancare all'appuntamento, e intanto gli uomini e le donne dell'esercito italiano hanno allestito ai piedi del Sacrario una speciale cittadella degli alpini. Questa è un'Alpina Tour, è un evento particolare, non è la classica cittadella della Dunata, quella che abbiamo visto a Vicenza qualche mese fa, è una cosa focalizzata soprattutto per la parte sportiva, quindi al di fuori di vedere i nostri mezzi dell'esercito italiano, che vedete alle spalle, ma li vedete poi allestiti domani con calma, una tenda con tutti i nostri equipaggiamenti, materiali che utilizziamo, c'è l'attività sportiva in quanto tale, c'è una palestra di roccia che potrà essere utilizzata e scalata con i nostri istruttori, sia dell'esercito che dell'Associazione Nazionale Alpini, ci sarà poi un percorso ginico-militare, chiamato CrossFit, però è un qualcosa che facciamo a fare i ragazzi, con degli step ben precisi, un istruttore che li spiega, li guiderà lungo questo percorso, e quindi potranno passare il tempo che vorranno qui da noi, qui nella Piazza degli Eroi, a fianco al Sacrario di questa bellissima città di Asiago. Chi è che sta lavorando qui? Qui ovviamente c'è il settimo reggimento alpini che è di Stanza Belluno, quindi per vicinanza geografica è quello che in zona viene sempre, il comando Brigata Alpina Iulia che coordina l'attività, con il nostro nucleo Carabinieri presente, e poi c'è il nostro quattordicesimo reparto comando, che è quello che sta organizzando la parte sportiva, specialmente nel percorso ginico-militare. Gli istruttori di alpinismo sono del settimo reggimento alpini, vi aspettiamo domani, dalle nove in poi, a vostra disposizione.